la massa atomica di un elemento è la massa relativa rispetto all'atomo dell'isotopo 14 del carbonio e questa è falsa è falsa perché a pagina 66 vediamo che è definita massa atomica di un elemento e la massa relativa rispetto all'atomo di carbonio 12 e l'unità di massa atomica è uguale a un dodicesimo della massa del carbonio 12 è definita come u per determinare la massa molecolare si fa la somma delle masse atomiche degli atomi che compongono la molecola e questo è vero si sommano le masse atomiche relative degli atomi che compaiono nella formula moltiplicato il numero in pedici che indica quante volte quella quell'atomo di quell'elemento è presente due chiodi di ferro di forma diversa ma con lo stesso peso contengono lo stesso numero di atomi e questo è vero perché ogni atomo ha una sua massa e se due chiodi hanno la stessa massa vuol dire che contengono lo stesso numero di atomi e quindi è vero